L'avvocato nisseno Anna-Lisa Petitto sul piede di guerra per essere stata esclusa dal Consiglio Comunale e sui social sfoga la sua rabbia. L'ufficio centrale elettorale, afferma, ha attribuito 15 seggi quale premio di maggioranza alla lista del sindaco Gambino, comportando la mia esclusione dal Consiglio Comunale nonostante quasi 500 voti riportati, 479 per i pignoli e polemici. Sto valutando di ricorrere al TAR solo ed esclusivamente per difendere la volontà di 500 nisseni che avrebbero voluto che li rappresentassi in Consiglio Comunale per garantire la piena rappresentatività delle minoranze. Nel frattempo, prosegue, inizieremo a fare politica fuori dal palazzo insieme ai tanti che in questi ultimi due anni mi hanno chiesto a gran voce di essere coinvolti e di iniziare un percorso nuovo. Nei prossimi giorni ci riuniremo con tutti coloro che condividono il percorso umano e politico che c'era la base della mia esperienza e che andava e va oltre la candidatura a Consigliere Comunale. E insieme, conclude Annalisa Petitto, faremo l'analisi del voto che renderemo pubblica.